super colazione da fitness girl con le mie girl a me vogliono dare un altro cheat ragazzi io ho già fatto ieri siamo a casa della caro con la franca ormai ho acquisito anch'io questo questo mi ispira anch'io c'è un formagino questa è la coperta quanto fai? faccio 300 e lo divido in età così faccio 150 e 150 così è anche più buono e più alto esatto non fai ingrassare annusare il limone è buonissimo tua mamma cosa ha detto? no fa un pochino di burro ma un pochino di burro cosa vuol dire? dalla guarda perché se non so già come va a finire no la prima mattina io non ce la voglio più la sera mi ne vogliono eh no ma il cazzo è che si inizi dal mattino e poi si ne mangiate ai per il forza no ai per il forza adesso siamo super live sì perché ragazzi ieri abbiamo scarletto come dei porci albume l'albume così vi piace naturale? sì sì a me sì ormai abbiamo dei gusti un po' novoli ragazzi io dopo ci aggiungo qualcosa sopra tipo pensavo di aggiungerci questo qua ma aspetta ma qua dentro che non c'è? ma là ci saranno dei biscotti che forse li dobbiamo eliminare dalla vista ragazzi lontano dagli occhi lontano dal cuore lontano dal cuore lontano dal cuore super tortino è un tortino riuscito quello della fra tipo marmorizzato per come solito i mirtilli surgelati e poi lei come grassi ha scelto le nocciole e niente sembra che aver visto il primo tortino della nostra vita nocciole buon appetito buon appetito mi sembra vero anche perchè se le diezio non penso che capitasse da secoli per me la colazione le diezio sembra che siamo in hangover dalla serata che non abbiamo fatto tornare dai contract che è un attimo quando perdere la rettavia non c'è 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 secondoè il primo circuito è andato pausa pausa che diamo in un minuto e lo ripetiamo altre 3 volte abbiamo finito comunque da appunto qualcosa mi circonde images Super metabolico Siamo provatissime La schermata iniziale che avete visto Fate un bello screen, ve la portate in palestra Ve la fate a casa Se volete acquistare le attrezzature Le trovate sul sito Physistore.it In base a chi vi sta più simpatica Potete usare il codice